Mettere insieme le difese del Forte, far addestrare i ragazzi. È stressante fare il reggente. Tra un po'. Da oggi non avrai mai più preoccupazioni. Questa è un po' di più. Se questo è meglio che sai madre, non ci vorrà morti. Il regno è qui! Non conosco l'Italia! Mi auguro! Com'è possibile? Sono meglio di te! Non dovresti essere in grado di uccidermi e prendere il Forte! Il ramingo ha abbattuto Ruh! Il rungo della casa è riuscita. Grazie.